ok allora se mi sentite riportiamo di nuovo ok ottimo perfetto allora riportiamo di nuovo eccoci qua ok benvenuti di nuovo scusatemi il problema tecnico con il microphone allora partiamo di nuovo con un altro aggiornamento questa volta da casa a causa delle crisi e speriamo di vedervi presto di nuovo al target garden del nostro meetup ok allora partiamo degli ultimi aggiornamenti che sono stati negli ultimi due tre mesi ci sono stati tanti aggiornamenti abbiamo due aggiornamenti molto importanti uno per quanto riguarda l'algoritmo di google e poi c'è la notizia diciamo più importante forse dell'anno per tutti quelli che stanno nel settore del retail perché c'è stato anche un aggiornamento molto importante per quanto riguarda google shopping partiamo dal primo aggiornamento riguarda l'ultimo core update google quindi il 4 maggio c'è stato un altro update di google questo è il secondo update di questo anno è il primo dopo diciamo la crisi del covid quindi che cosa c'è stato in questo ultimo update diciamo che è un core update quindi non è un update come le altre che ha fatto google tipo la speed o altri aggiornamenti dove sappiamo esattamente che tipo di update c'è stato è soltanto un core update questo vuol dire che il motore di ricerca google sta cercando di migliorare i risultati relativi alla ricerca e va sempre a cambiare l'algoritmo che usa diciamo che rispetto al primo aggiornamento che c'è stato questo aggiornamento è un pochino più forte perché il primo ha registrato un punteggio quasi di otto punti questo tra il 9 e 9,4 punti per questo nuovo aggiornamento quali sono le categorie più diciamo influenzati da questo aggiornamento prima di tutto abbiamo le categorie di viaggi abbiamo anche le categorie per immobili e salute animali queste che sono stati le categorie più colpiti invece abbiamo visto che c'è un miglioramento un po' sui siti di news quindi un sito come legacy.com secondo semrush ha fatto un miglioramento di posizionamento di quasi 13 punti in media su questo sito allora che cosa devo fare come un SEO quando ci sono questi tipi di aggiornamenti diciamo che noi non possiamo diciamo forzare google a fare un aggiornamento o no quindi quando google fa un aggiornamento ovviamente noi possiamo adattarsi quindi la cosa più saggia da fare in queste situazioni è andare a verificare e vedere come è cambiato il traffico sul mio sito quindi magari faccio un bel filter su google analytics e vedo quali sono le pagine che hanno perso che hanno avuto un drop di ranking e vado a fare la diciamo l'attività normale di SEO quindi se ho delle pagine che hanno perso del traffico dopo l'aggiornamento faccio l'home page SEO vado a vedere ottimizzare il performance vedere i dati strutturati diciamo tutto quello che riguarda queste pagine e la cosa migliore è fare un update del content in modo di recuperare questo drop che ho avuto a causa dell'aggiornamento di google adesso passiamo per un altro aggiornamento forse questo più importante sul lato shopping negli ultimi dieci anni allora che cosa succede nel 21 di aprile? nel 21 di aprile esce Bill Reddy che praticamente lui è il presidente dell'e-commerce di google e dice che adesso si può vendere su google gratuitamente è una notizia grossa perché questo modello di business che è stato su google shopping è sempre stato un modello pay per play noi sappiamo che alla fine diciamo tornando nel passato quando è uscito frugal nel 2002 poi si è cambiato per google search nel 2007 poi nel 2012 abbiamo scoperto google shopping nella modalità attuale che tutti sappiamo e durante tutti questi anni c'è stato un unico modello di business che è pay per play cosa vuol dire? vuol dire che se io ho un negozio e voglio vendere sulla piattaforma di google devo praticamente aprire un account di google shopping e andare a dare un feed tramite google shopping per poter avere diciamo questa visibilità su google shopping e poi all'improvviso google decide di cambiare il gioco decide di non riservare questa area di google shopping all'advertiser perché come sappiamo dobbiamo sempre pagare per poter entrare in questa area quindi non è gratuita perché adesso google decide di fare questa parte gratuita? diciamo che per tanti motivi la prima cosa la cosa più importante è che adesso ci sono più interessi nel senso la gente cerca più online la gente vuole comprare più online e quindi siccome google stava perdendo un po' questa diciamo guerra con amazon soprattutto google ha deciso di aprire questa parte anche per la ricerca organica quindi chiunque ha un piccolo negozio che vuole vendere online adesso può fare questa cosa e ovviamente perché siccome io se sono piccolo retail per esempio forse è più facile per me andare su amazon e vedere su amazon perché comunque se devo andare a combattere con le grandi aziende che stanno su google shopping comunque è un po' una battaglia persa quindi google ha deciso di fare diciamo questo aggiornamento anche per aprire l'opportunità a questi piccoli retailer in modo che loro riescono ad entrare anche in questa area e per dare più visibilità ai prodotti per tutte le persone che stanno perché ovviamente più prodotti disponibili questo vuol dire che ci saranno più ricerche e più ricerche vuol dire più concorrenza con amazon e questo porta ovviamente più valore a tutti gli advertiser allora come io posso entrare in questa area o che cosa devo fare per poter vendere su google shopping la prima cosa che devo fare è aprire un account google merchant center quindi prima devo vedere diciamo i prodotti che io già ce l'ho e qui come vedete abbiamo anche un esempio diciamo del feed di google merchant quindi se apriamo questo evento ovviamente dopo il webinar ricevete una mail con questo materiale vediamo diciamo un esempio qui del feed di google che cosa chiede per quanto riguarda i prodotti quindi l'id del prodotto, il titolo, descrizione, la condizione del prezzo e google anche ha messo una sorta di esempio per un prodotto quindi per esempio se ho una maglietta nera posso mettere la descrizione di questa maglietta se la condizione ci sta nel negozio, se non ci sta nuova, usata diciamo tutto quello che serve per poter fare un feed per i prodotti che posso vendere su google ok torniamo alla nostra presentazione qua e passiamo su un altro aggiornamento google adesso aggiorna anche la parte dell'immagine e le alcune che si trova anche sulla parte delle immagini diciamo che sempre una cosa può essere in qualche modo collegata con il primo aggiornamento su google shopping perché adesso della ricerca di immagini che sappiamo anche è una ricerca molto importante soprattutto quando sto cercando per esempio un prodotto quello che possiamo fare adesso o quello che sta aggiornando google possiamo vedere dall'immagine un'icona che indica che tipo di ricerca che abbiamo quindi se c'è un prodotto o una ricetta o un video subito dalla parte di image search posso vedere e capire che cos'è quando è importante una ricerca del genere? è molto importante quando sto cercando un prodotto facciamo per esempio che se io sto cercando del sunny glattis for me per esempio subito io posso vedere tutti i prodotti e dalla ricerca di emails prima che io entro sul sito posso vedere che tipo di ricerca è quindi come vedete qua io vedo qui che c'è un prodotto e addirittura posso anche vedere dalla ricerca di immagini se questo prodotto è in stacco o no quindi come vediamo qua questo è un prodotto che sta su aliexpress e lo so che sto in stacco quindi lo posso scegliere subito dalla ricerca di immagini poi abbiamo anche la parte sopra che rappresenta un po' le categorie quindi qui quando ottimizziamo le categorie sarà una cosa molto importante invece questa immagine qua come vediamo per esempio non è un prodotto quindi questa è un'immagine normale quindi io da utente posso percepire dalla image search di google che dietro questa immagine qua non c'è un prodotto ma è soltanto un'immagine ok passiamo su un altro aggiornamento per quanto riguarda la metà dati della licenza di immagini quindi se io sono un fotografo o ho delle immagini che stanno sul mio sito e non voglio che qualcun altro copia queste immagini adesso anche c'è la possibilità di mettere la licenza usando i dati strutturati ovviamente che così quando la gente cerca questa cerca con una parola chiave specifica qualsiasi cosa possiamo vedere la licenza che già c'è sul nostro sito quindi nessuno può copiare le immagini passiamo adesso anche su un altro aggiornamento per quanto riguarda la parte del FAQ quindi questo è un aggiornamento importante perché google che cosa dice adesso? che se vogliamo usare la parte del FAQ sul nostro sito dobbiamo essere molto attenti perché non dobbiamo ripetere la stessa domanda o la stessa marcatura di questa FAQ su tante pagine perché? perché google sta cercando di dare un'informazione molto relativa per ogni pagina quindi ogni pagina deve avere un'informazione specifica che rappresenta praticamente il tipo di informazioni che abbiamo su questa pagina quando una persona chiede una cosa su google per esempio se io voglio andare per esempio a new york e mangiare qualcosa posso andare e scrivere su google dove mangiare per esempio a new york e qui da questa ricerca vedo questa parte qua che si chiama el people also ask quindi in questa parte qua se io voglio entrare in questa parte che comunque è una parte molto importante perché mi permette di dare al cliente una risposta immediata di quello che sta cercando quindi se io implemento questa roba qua che vedo qua sul mio sito potrebbe essere molto utile per me perché prima posso avere un conversion rate più alto perché sto rispondendo esattamente a quel tipo di ricerca che io ho e poi diciamo l'altra cosa importante quando io metto una fq e riesco ad avere questa feature snippet avrò più pixel su google quindi se io faccio una cerca tipo foto del roma diciamo vediamo che siti tipo tripadvisor per esempio qua loro escono sul motore di ricerca con questa parte che sta sotto che è praticamente una fq quindi avere più pixel ovviamente per una ricerca specifica mi aiuterà prima di tutto di alzare le click through rate perché ovviamente ho più pixel la gente vede tutta questa roba qua e comunque avrò anche più traffico che arriva sul mio sito e la seconda volta beccare quel user intense che mi serve perché se c'è una persona che sta cercando esattamente questa domanda sarà più facile per me rispondere a queste domande e portare quel tipo di traffico qualificato torniamo qua quindi dopo la fq ovviamente per poter avere la fq devo essere nella prima pagina difficilmente che io secondo nella seconda pagina e riesco ad avere un feature snippet come fq quindi questa è una cosa molto importante ok passiamo adesso ad un aggiornamento molto più legato diciamo al coronavirus che google anche ha messo un altro tipo di data strutturati adesso che sta in beta che mi permette anche di comunicare un certo tipo di emergenza se io sto gestendo il sito di un'azienda tramite l'inserimento di dati strutturati che rappresentano un annuncio specifico per covid 10 quindi se andiamo alla guida di google alla guida di dati strutturati vediamo che google ha messo un po' di esempi che rappresentano questo tipo di messaggi quindi come sappiamo sempre dal famoso diciamo parte per i dati strutturati vediamo qua che ci sono al momento diciamo una serie di dati strutturati sono in formato JSON-LD o in formato di microdata e un blocco rappresenta un tipo specifico di announcement che posso usare per comunicare diciamo un messaggio specifico sul mio sito ovviamente legato al covid 19 ok adesso abbiamo un altro aggiornamento un po' più simpatico perché google ha annunciato che ci sarà un messaggio nuovo addirittura quando google non riesce a trovare un risultato per la ricerca che facciamo quindi se io faccio una ricerca e google non riesce a trovare la risposta uscirà questo messaggio qua che adesso sta in beta nel mercato dei Stati Uniti poi sarà praticamente il suo livello in tutto il mondo quindi se google non riesce a trovare il risultato mi uscirà un risultato nuovo che mi dice google non ha trovato la ricerca sempre per quanto riguarda il google search console abbiamo anche un aggiornamento nuovo che mi dà diciamo la possibilità di personalizzare un po' di più l'account di google search console quindi se io sono il proprietario dell'account google search console e ci sono altre persone che voglio aggiungere voglio posso anche diciamo personalizzare la parte delle schede del repilogo come vediamo qua che è questa uscita nel 2018 quando faccio una ricerca vedo questo box qua che mi indica praticamente i clicks e pression la per esposizione tutta questa roba qua insieme alle altre notifiche quindi se io non voglio ricevere notifiche di google search console quando ci sono errori per esempio quando c'è qualcosa da risolvere o non voglio fare arrivare queste notifiche alle altre persone che collaborano con me adesso posso anche nella parte delle notifiche di google search console modificare tutta questa roba qui e personalizzarla come preferisco adesso passiamo all'ultimo aggiornamento che c'è stato per quanto riguarda il crawler indexing come sappiamo che nel 2019 abbiamo parlato di questo aggiornamento nel nostro ultimo metap c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda i links il no follow e il do follow come sappiamo che abbiamo questi due tipi di contributi no follow e il do follow quando vogliamo passare il link o quando non vogliamo passare il link allora questo aggiornamento è stato in due parti la prima parte è stata già applicata la seconda parte è entrata praticamente dal primo marzo la seconda parte è riguardo il crawler indexing quindi perché devo diciamo essere un po' attento con questo aggiornamento perché adesso google anche se io ho delle pagine dove c'è messo un o follow perché sappiamo che qualche adviders per esempio usano il no follow per qualche pagina sensibile tipo se c'è una pagina che porta da un profilo o c'è una pagina che porta per un login dentro il CMS o qualcosa del genere adesso devo fare un po' di review di tutti questi links che ho e vedere queste pagine e se c'è diciamo un modo per non farli crollare da google quindi se ho una pagina che ha un traguto no follow per esempio io non voglio questa pagina essere crollata da google posso diciamo toglierla dal robot cxc per esempio o posso togliere diciamo questa no follow che io l'ho messo e usarla in un altro modo quindi quello che dobbiamo fare fare un tipo di review di tutti i links no follow che io ho sul sito e togliere questi che non sono necessari e diciamo questo un po' meno tutti gli aggiornamenti che abbiamo adesso visto insieme sempre questo raggiamento del cronitexing e adesso possiamo passare alle domande ok allora vediamo un po' di domande che abbiamo qua allora qui abbiamo credo una domanda di digital kitchen allora cosa deve fare chi ha un e-commerce in pratica è necessario collegare google shopping con google ads ovviamente sì perché se io sto facendo gli ads senza usare google shopping nel senso se io non ho fatto ancora un feed e non sto uscendo nei risultati di google shopping questa è la prima cosa da fare perché adesso non è che devo anche pagare questi tipi di risultati ci sono anche senza pagamento quindi un momento d'oro adesso per andare e collegare il mio account google ads con google merchant e fare il submit del feed su google perché anche se non pago posso anche essere ricercato e posso anche essere trovato da potenziali clienti ok facciamo altre domande ok qui abbiamo anche un'altra domanda per quanto riguarda la marcatura del FAQ allora come possiamo diciamo implementare la la mappatura diciamo o la strutturati dell'FAQ ovviamente se io voglio diciamo avere questi tipi di risultati diciamo di rich snippet dell'FAQ devo avere il dato strutturato sulla mia pagina quindi se io per esempio prendo l'esempio che abbiamo visto prima quindi quello di TripAdvisor per esempio e vado a vedere il dato strutturato che sta dietro questa pagina andiamo allora a vedere il dato strutturato che sta qua ovviamente chi già usa i dati strutturati conosce sicuramente questo strumento se ancora qualcuno non lo usa o non ha una buona conoscenza come si usano i dati strutturati ovviamente deve cominciare ad usarlo come vedete qua per esempio qui abbiamo una parte dell'FAQ page quindi il sito di TripAdvisor ha implementato questa impostazione di dati strutturati e vedete qui abbiamo la domanda e qui abbiamo la risposta ovviamente per impostare dati strutturati io devo tornare diciamo alla guida di Google che qui mi spiega come possono essere messi questi dati strutturati qui vediamo scrive io lo posso farlo manualmente o lo posso praticamente usare degli altri tours e diciamo che il modo più facile per mettere questa roba come sappiamo prima di tutto il prodotto che lo mette Wordlift quindi tutto quello che riguarda i dati strutturati il knowledge graph linked data tutta questa parte qua può essere automizzata e fatta direttamente usando dei tools sia per Wordpress sia sul cloud quindi quello che mi serve dopo ovviamente soltanto diciamo scegliere il tipo di dato strutturato che voglio il tipo di entità e poi dare direttamente questi dati strutturati scegliendo la parte delle questions and answers sul contenuto che io già ce l'ho sul mio sito e poi ovviamente una volta che ho fatto tutta questa roba posso semplicemente prendere il link che io ho e andare su google structure della testing tool e vedere se il mio dato sta uscendo bene o no ok vediamo altre domande se ci sono allora c'è una domanda chi ha già degli ads attivi che cosa deve fare e prima di tutto che cosa intendiamo con gli ads se gli ads attivi sono già su google merchant non deve fare niente quindi se il feeds è già è stato fatto già è stato fatto il submit su google merchant non deve fare niente perché questi dati già ci sono quindi non c'è bisogno di fare niente invece quello che si può fare diciamo sempre in ambito di ottimizzazione di e-commerce andare a vedere e magari lavorare anche sulla parte di data strutturata di queste pagine quindi google merchant sta a posto perché ho già dato il feeds quello che possiamo dare magari è il dato strutturato che io già ce l'ho sul sito quello che si può fare in questo modo ok altre domande vediamo se ci sono altre domande ok allora ci sono altre domande bene grazie a tutti ci vediamo nelle prossime aggiornamenti grazie ciao ciao